Ciao a tutti, sono Max e benvenuti nel mio canale. Allora, che idea mi son fatto di Castelvania? Sono fatto un'idea molto molto buona. Vale a dire, le animazioni direi che sono molto ben curate, la computer grafica non è troppo presente o almeno è messa bene nel contesto. Capite quello che voglio dire? Non si vede troppo che è CGI. Però c'è una cosa negativa. E la cosa negativa, anzi due cose negative. Vale a dire, quattro puntate. Non me la puoi far durare una stagione, quattro puntate. Eh? Non puoi. Perché io ci esco di testa. Perché Castelvania è per me uno dei brand, una delle IP, come volete chiamare, preferite. Benché non abbia giocato a tutti i titoli usciti di Castelvania. Si è chiaro. Il primo titolo a cui giocai di Castelvania era quello sulla prima PlayStation. Castelvania, Symphony of the Night, che tra l'altro vorrei portare anche qui sul canale. E l'altro aspetto negativo, sapete qual è? La musica. Castelvania ha una musica troppo caratteristica per essere messa da parte e rimpiazzata con qualcos'altro. Perché la musica della serie, non so, non era malaccio, ma mancava di qualcosa, di brio, di... di orecchiabilità, perché la musica di Castelvania, almeno la traccia principale di Castelvania, ovvero Vampire Killer, Vampire Killer, che dà anche il nome alla frusta, alla frusta usata dal clan dei Belmont. E' troppo caratteristica quella musica, troppo. E' come se tu prendessi, non so, un brand, faccio per dire Terminator, ok? E togliessi la musica principale, quella... Quella tu-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du, quella lì, no? E la rimpiazzassi con qualcos'altro. E il risultato? Eh, cari miei, no. Non funziona. Perché è entrata troppo nelle menti dei fan. Perché Castelvania ha una fan base molto forte, molto solida. E questo, secondo me, alla produzione, non hanno compreso molto, eh? Che dite? Bene. Fatemi sapere la vostra nei commenti qui sotto. E alla prossima. Ciao!